Bene, è arrivata la prima non vittoria della Juventus, dopo dieci vittorie consecutive, dopo otto vittorie in campionato, siamo a commentare questo pareggio contro il Genoa. Ovviamente mi rode, mi dà fastidio perché ci stava prima o poi a non vincere una partita, ma non questa e non così. Il Genoa non ha fatto praticamente nulla per vincere questa partita, assolutamente nulla. Ha fatto tanto per non perdere, questo sì, però gli abbiamo fatto fare tanto noi, cioè alla fine il Genoa esce con una grandissima prestazione difensiva di cui gli va dato merito, ma ha dato merito ai giocatori di Juric e Juric stesso, ma è una grandissima prestazione difensiva nata dalla nostra incapacità, dall'incapacità della Juventus di accelerare i ritmi e di rendersi pericolosa. Il primo tempo per me va benissimo, il primo tempo che ha fatto la Juve io lo promuovo quasi a pieni voti, diciamo con una sufficienza piena e abbondante, perché l'atteggiamento era quello che mi aspettavo. Veniamo dalla pausa nazionale, tanti giocatori che non si sono allenati insieme, tante difficoltà. Martedì abbiamo una sfida difficilissima all'Oltraffor contro il Manchester United. Il primo tempo a ritmi bassi, in cui cerchi di fare, di ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, per me era la scelta strategica corretta. Il problema è stato il secondo tempo. Nel secondo tempo, dal cinquantesimo, cioè dopo i primi cinque minuti in cui più o meno sembrava la stessa cosa del primo tempo, dal cinquantesimo la Juventus è praticamente morta. Completamente sparita dal campo, eravamo bassi, larghi, non si riusciva a fare uno scambio corto, perché eravamo tutti quanti distanti, ed è quello che succede quando si è svogliati, perché la voglia di giocare ti porta a correre di più, ad avvicinarti ai compagni, a fare una migliore rete di passaggi perché stai posizionato bene. La scarsa voglia di giocare, che si è vista nel secondo tempo, porta all'esatto contrario. Poi, il gol del pareggio del Genoa è qualcosa di raccapricciante, di inaccettabile, ed è un errore nostro veramente imperdonabile. Due sono stati, alla fine, gli errori difensivi che ha fatto la Juve. Uno sull'unico tiro che ha fatto Piontek, parato da Szczesny in corner, lì è un errore di Benatia che non è stato abbastanza preciso stasera sulle respinte difensive. Poi c'è una dormita generale sul gol di Bessa, come si chiama lui, sì, Bessa assegnato, perché sembrava che la palla andasse in corner, però lì la colpa principale ovviamente è di Bonucci, che si dimostra ancora una volta assolutamente in ritardo mentale sulle palle alte, che siano cross o corner, e non è il primo gol che ci fa prendere. Credo che sia almeno il terzo, sicuramente almeno il terzo, in situazione simile tra Parma, Chievo e stasera. Questo qui però è stato pesante e valso due punti è stato grave, perché lì, nella dormita generale, se almeno Bonucci avesse saltato su quel cross, non sarebbe successo nulla, magari avremmo concesso corner e va bene così. Invece non è intervenuto, si è fatto scavalcare, passare il pallone davanti e c'è stato questo gol, dopo il quale la Juventus comunque non ha reagito adeguatamente, perché ormai la testa era andata via, la Juve era già uscita dal campo, era quasi impossibile riprendere il filo del gioco e provare a vincere la partita, provare a fare gioco offensivo che non si è praticamente più visto. Mi dispiace anche di aver visto un pessimo ingresso in campo da parte di tutti i subentrati. Bernardeschi non gliene faccio una grossa colpa, perché è entrato per ultimo, si è trovato molto chiuso dagli avversari e appunto anche i compagni stanchi, per esempio Cioca Cancelo ha avuto un calo impressionante negli ultimi 10-15 minuti e ne ha risentito anche Bernardeschi che giocava dalla sua parte. Però Di Bala ha avuto un pessimo impatto sulla partita, due tiri fuori di cui uno in particolare che doveva, doveva, doveva necessariamente essere tiro in porta, non dico gol, ma tiro in porta, quello lì doveva necessariamente essere un tiro in porta. Douglas Costa ha sbagliato troppe cose, troppe cose non si è reso pericoloso come ci aspettavamo da lui e magari sono ingeneroso a prendermela con loro, però obiettivamente tu devi recuperare una partita, entri in campo, sei forza fresca, tu dico Douglas Costa di Bala e Bernardeschi, non riesci a incidere, la colpa ce l'hai anche tu, forse anche un po' più degli altri, perché Gioca Cancelo dopo che ha fatto una partita impressionante, straordinaria anche oggi, Bentancur stessa cosa, un'ottima partita, ci sta che calino, ci sta che possano calare, tu che sei fresco devi incidere, non hanno inciso. Per inciso, scusate la ripetizione, tra parentesi, altra partita in cui abbiamo giocato in 10, perché Mandzukic nel primo tempo è stato praticamente nullo, assente, totalmente fuori da qualsiasi cosa, nel primo tempo ha fatto giusto un paio di sportellate, un paio di contrasti vinti e niente di più. Nel secondo tempo sembrava essere entrato con un piglio migliore, che avesse più voglia di giocare, di partecipare all'azione, ma poi è andato svanendo anche lui, addirittura sembrava avesse paura di impattare il pallone sui cross, non da lui, assolutamente fuori partita Mandzukic e questo, diciamo, può avere inciso nell'economia complessiva della partita, nell'affaticamento dei giocatori in generale, perché giocando in 10, cioè avendo effettivamente un terminale offensivo che non ti aiuta nella manovra, fai più fatica, però non è stato determinante poi nel risultato, perché non si è mangiato gol Mandzukic stasera, in buona sostanza. Ronaldo ha fatto il possibile, ha fatto tutto quello che poteva fare, Pjanic ha fatto una partita buona, ma non buonissima, dicevo già di Benatia, che ha giocato bene, sicuramente ha giocato bene con personalità, ma è stato un po' impreciso, Bonucci ha sentito forse il peso della fascia da capitano, che clamorosamente ha indossato stasera, e l'ha sporcata, l'ha sporcata veramente male, cioè già i sondaggi che ho visto sull'essere d'accordo o meno nel dare la fascia da capitano a Bonucci dopo la sua parentesi al Milan erano assolutamente negativi, credo che adesso stia crollando nuovamente il gradimento dei tifosi nei confronti di Leonardo Bonucci, cosa ingiusta ma se l'è meritata, tra virgolette, nel senso che ha fatto una cazzata clamorosa, ripeto, su questo gol che è valso due punti buttati. Ora non è il caso di farne un dramma, e sono curiosamente io il primo a dirlo, doveva prima o poi succedere, è successo nella partita che meno ci aspettavamo, tra l'altro non ha neanche segnato Piontek, che avesse segnato Piontek l'avrei anche accettato, avesse il Genoa attaccato, ci avesse messo in difficoltà, lo avrei accettato, invece ci siamo messi in difficoltà da soli, però va bene così, adesso dobbiamo ripartire dalle cose positive, soprattutto dobbiamo uscire da questa bolla di confusione che si è vista oggi nel secondo tempo. Sembrava la Juve del finale di stagione scorsa, mi ha ricordato Juventus-Bologna per esempio, con la differenza che poi col Bologna vincemmo, stasera invece non si è riusciti assolutamente a vincere. Credo che sia un passo falso incidentale, supereremo questa questione, già martedì secondo me vedremo tutta un'altra Juve, però c'è bisogno che si ritrovi un po' di compattezza mentale, di convinzione, perché troppi giocatori o non sono mai entrati in campo o hanno mollato troppo drasticamente, veramente nel corso della partita. Tra l'altro Allegri mi è sembrato anche poco arrabbiato, mi aspettavo da lui anche che desse più grinta ai ragazzi, può darsi che si era fatto i suoi conti così, va bene. Niente, adesso ci vediamo domani per l'analisi tattica, più che mai doverosa per una partita del genere, per capire che cosa è andato storto, perché ci sono cose che sono andate storte, grazie per la visione, continuate a seguirmi, iscrivetevi al canale, a presto, e sempre Forza Juve! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.